Amici, sentite a mia, per favore. Avemo un'ora in questo paese, ma avemo qui con noi due professori, che sono un organetto e un tamburello. Ora facete ruota intorno a mia, e che vuole ballare se pronota. Questa è una serata d'allegria, per questa è Tarantella e Salonota. Attaccate, Mim e Franco Romeo! 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 Attaccate, Mim e Franco Romeo!